Si festeggia anche a Teramo la giornata nazionale del pesce italiano per far conoscere caratteristiche e qualità ma anche per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco nazionale e a difendersi dall'inganno del falso made in Italy con l'aiuto dei pescatori scesi a terra per offrire il proprio prodotto a miglio zero. Per l'appuntamento un tutor del mare ha illustrato i segreti della tradizione marinale italiana che in Italia può contare su 9.136 chilometri di costa dove operano circa 12.000 imbarcazioni purtroppo in forte riduzione rispetto al passato anche per la concorrenza del pesce importato che garantisce i livelli di sicurezza nettamente inferiore a quello nazionale. Sì, anche qui a Teramo oggi stiamo realizzando il progetto nazionale sulla peschicoltura un mare di salute che ben si sposa con quelli che sono i principi di campagna mica dei prodotti locali e la valorizzazione appunto dei prodotti locali. In occasione di questo progetto nazionale stiamo dando, distribuendo gratuitamente un ricettario per la valorizzazione dei prodotti locali e inoltre stiamo facendo degustare i prodotti a tutti i partecipanti al mercato. È un evento che mira a rafforzare il prodotto locale e quindi la valorizzazione attraverso le ricette tipiche. Grazie.